SAC Aressano L'insediamento rupestre di Macurano risale all'epoca medievale. Si tratta di uno dei siti più antichi del Salento. E' ubicato lungo le pendici dell'altura su cui sorge Montesardo. L'insediamento rupestre di Macurano è visibile lungo le dorsali rocciose delle serre salentine. Macurano si trova alla base della Serra di Alessano. In un'area caratterizzata dalla presenza di vegetazione spontanea e macchia mediterranea. E oggi ricca di uliveti secolari. L'insediamento consiste in 31 cavità. Alcune costituiscono il nucleo più antico del complesso di Macurano. Altre sono legate alla costruzione di imponenti masserie fortificate nel Cinquecento. In questa zona si trovano cinque frantoi ipogei e cisterne antiche per la raccolta delle acque. Parte del complesso è andato perduto a causa dell'apertura di una cava. L'insediamento rupestre di Macurano si trova ad Alessano e si raggiunge seguendo la strada provinciale per Novaglie. L'insediamento rupestre di Macurano si trova ad Alessano e si trova ad Alessano.